A pochi giorni dal voto che deciderà il prossimo sindaco di Milano, cominciano le grandi manovre in vista di un eventuale secondo turno. Le dichiarazioni che precedono il primo passaggio elettorale sono sempre da prendere con le pinze, ma quanto sottolineato dal leader politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lascia poco spazio a dei dubbi. Se ci sarà un ballottaggio in cui non staremo coinvolti, valuteremo, ma sicuramente avremo più facilità ad avere un dialogo con le forze del centro-sinistra che non c'è proprio nessuna possibilità, anzi chiarisco, con le forze del centro-destra. Ma pensa di fare più del 10% a Milano? Guardi, non ho la palla di ventolo. Noi puntiamo a un buon, anzi ottimo risultato. Un'offerta o poco ci manca che piove sul tavolo del centro-sinistra e dunque del sindaco uscente Beppe Sala, che dal canto suo non dà segno di disdegnare. Io credo che Conte stia cercando di portare i 5 Stelle nel lago del centro-sinistra. Il punto non sono apparentamenti sulla base delle volontà, ma sulla base dei programmi. Cominciamo a passare il primo turno e poi ci ragioneremo, però non posso che apprezzare questa linea che Conte sta dettando.